i nuovi potentissimi neri hanno un neo giallo rosso blu o verde tanga ns voxon neo verde fm neo giallo onde lunghe neo rosso onde medie neo blu fm con quattro stazioni in memoria nuovi tanga ns voxon neri e piccoli neri e potenti neri e radiosi voxon la sfida della vera estraibilità